Servono più operai, non possiamo partire con i ritardi già nella prima fase dei lavori. L'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti è infuriato. I lavori della nuova linea tramviaria Fortezza San Marco inaugurati il 21 luglio scorso. Dopo poco più di un mese già non stanno rispettando il cronoprogramma iniziale. Abbiamo convocato le ditte e la direzione dei lavori già nella prima settimana di agosto per la riorganizzazione e l'incremento del personale in servizio ha spiegato Giorgetti a Repubblica Firenze. L'assessore costretto a convocare riunioni su riunioni ha chiesto una forte accelerata per concludere la prima fase dei lavori entro metà settembre. Per Giorgetti in questo momento è importante soprattutto sistemare la situazione relativa a Viale Milton in modo da restituire le aree di sosta ai cittadini. L'idea iniziale era infatti quella di eseguire i lavori nel momento in cui la maggior parte dei fiorentini fosse in vacanza così da creare minori disagi possibili.